Siete pronti a vivere la corsa di mountain bike più emozionante al mondo? Su Bike Channel arriva la ABSA Cape Epic nella meravigliosa cornice del Sudafrica. 8 giorni, 8 tappe per una gara fatta di colpi di scena e corridori pronti a tutto. ABSA Cape Epic dal 24 al 31 marzo, tutti i giorni alle 20.30 in esclusiva su Bike Channel.